Segno che anche la locomotiva d'Europa non è immune dalla frenata dei mercati internazionali. A marzo i disoccupati tedeschi sono inaspettatamente aumentati. A dirlo i dati dell'Agenzia Federale del Lavoro di Norimberga. Il numero è salito a 2.940.000, 13.000 in più di febbraio, con gli analisti spiazzati che prevedevano un calo di 2.000. Il tasso di disoccupazione è comunque stabile al 6,9%. L'economia tedesca tiene gli occhi puntati sull'Europa, suo primo mercato di esportazione. Ma per tornare alla crescita, l'attenzione è sempre più rivolta verso i mercati asiatici. Grazie a tutti.